in quel tempo gesù alzati gli occhi al cielo disse padre è venuta l'ora glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato questa è la vita eterna che conoscano te l'unico vero dio e colui che hai mandato gesù cristo io ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare e ora padre glorificami davanti a te con quella gloria che io ho presso di te prima che il mondo fosse ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo erano tuoi e le hai date a me ed essi hanno osservato la tua parola ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te perché le parole che hai dato a me io le ho data loro essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato io prego per loro non prego per il mondo ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro io non sono più nel mondo essi invece sono nel mondo e io vengo a te abbiamo visto ieri una prima caratteristica dello spirito santo egli è il vivificante colui che dà vita a tutto il respiro eterno di dio oggi guardiamo lo spirito santo come il cristificante per opera dello spirito santo dio si è incarnato nel seno della vergine maria il concepimento e la nascita di gesù cristo sono la più grande opera compiuta dallo spirito santo nella storia della creazione della salvezza in conseguenza dell'incarnazione di cristo lo spirito di dio si unisce in qualche modo con la carne stessa dell'uomo e quindi con tutta la creazione era impensabile per la filosofia greca del tempo e diciamolo per tutte le religioni di tutti i tempi che dio si contamini con ciò che è destinato a morire l'opera cristificante dello spirito non si ferma però alla nascita ma continua nella vita di gesù lo ritroviamo nel battesimo al giordano quando squarciando i cieli scende come colomba poi spinge gesù nel deserto delle tentazioni e gesù ne prende piena consapevolezza nella sinagoga di nazareth quando cita isaia lo spirito del signore è su di me poi gesù esulterà nello spirito santo perché il padre ha nascosto queste cose idotte ai sapienti e le ha rivelate ai piccoli e con la resurrezione gesù consegna lo spirito ai discepoli ricevete lo spirito santo già aveva anticipato il tutto nei giorni precedenti la passione diceva ai discepoli il consolatore lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto significa che lo spirito santo continua a ispirare la divulgazione del vangelo ma anche che aiuta a comprendere il giusto significato del contenuto del messaggio di cristo lo spirito santo è un altro paraclito un altro cristo ma lo spirito santo è il cristificante non solo per l'associazione al mistero di cristo ma anche perché cristifica noi come nell'annunciazione prende possesso della carne di maria generando cristo nel suo corpo così fa con l'umanità redenta lo spirito santo fa nascere cristo in noi lo fa nel giorno del battesimo quando veniamo innestati come tralzi alla vite e continua a cristificarsi nei sacramenti e con cristo in cristo e per cristo come diciamo la messa innesta in noi la vita eterna sposando la nostra umanità mortale ci rende divini